Buongiorno! Carrie, che cos'è questa fretta? Walter non è andato a lavorare? Che cosa è stato? Oh no, che disastro! Penso che ti serva un po' di aiuto! Ehi Carl, a che riserve il tuo aiuto? Walter è scomparso e non sa dove si trovi! C'è un po' di aiuto! Povera Carrie, la serve veramente un po' di aiuto! Ma penso proprio che Super Camion abbia un'idea! Manu e Renato! Un elicottero! Fantastico! Ti stai divertendo a fare l'elicottero! Wow, ma è fantastico! E ora cerchiamo di trovare Walter! Ma dove sarà? Sembra che non sia al negozio di pneumatici! Mi domando dove possa essere! Ma di meno! Walter non è nemmeno al parco! Ma dove può essere? Aspetta, che cosa hai visto? Oh, Walter! Walter, sembra proprio che tu sia nei guai! Stavi correndo da Carrie quando sei uscito per sbaglio dal ponte! Oh no, dovrai fare veloce Super Camion, altrimenti Walter finirà nell'acqua! Super Camion, hai lo sguardo delle grandi idee! Naturalmente, l'ST3000! E ora vediamo come possiamo usarlo per salvare il nostro amico! È un gancio da presa, Walter! Non preoccuparti, Walter! Il Super Camion ti salverà prestissimo! Ci siamo quasi! Non preoccuparti, Walter! Sì! Ah, ci ha mancato poco! Un gran bel lavoro, Super Camion! Grazie infinite, Super Camion! E ora diciamo a Carrie che stai bene, Walter! Ci vediamo là, Super Camion! Walter, Carrie è felice di vedere che sei salvo! Walter, ha un regalino per te, Super Camion! Oh, fai attenzione, Walter! Ci è mancato poco! Ciao a tutti, ci vediamo la prossima volta! Grazie mille ancora, Carla! Ciao! Wow, Jerry sta andando veramente veloce! E ora è diventata una gara fuori dal comune! Guardate tutti quei fan! Jerry, non è carino chiamare Bobby in l'umacone! Stai attento, Jerry! Oh, no! Oh, oh, Jerry, sembra proprio che ci serva aiuto! Il dovere chiama Carl! Vai, Super Camion! Vai, Super Camion! Super Camion, Jerry e Bobby sono un po' più in là Guarda, guarda laggiù, nell'acqua L'acqua con tutti questi rifiuti si sta inquinando Che cosa farai Super Camion? Un camioncino della spazzatura, ma è un'idea meravigliosa Il Super Camion si occuperà di tutto questo, Jerry È un'idea eccellente Super Camion E guarda, sta funzionando Vedi Bobby, non c'è da aver paura, Super Camion è con noi La prossima volta, Jerry, dovrai stare più attento Cosa vuoi fare? Vuoi aiutare anche tu ora? È carino da parte tua, ma... Forse dovresti lasciar fare a Super Camion Jerry Super Camion, veloce Tieni duro, Jerry Jerry, aggrappati Veloce Super Camion, usa il tuo ST3000 E questo che cos'è? Sono l'acqua Si, è un'idea Vedi, se sono state E' un'idea Scegli in un'idea Ah! 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 un altro ottimo lavoro super camion tutti quanti sono in salvo guarda un po' Jerry, scinautico ciao ciao amici, ci vediamo la prossima volta Carrie, dove stai andando così di fretta? sei in ritardo per una consegna? Carrie, hai sentito la sirena? sembra che Bobby sia in difficoltà che succede, Bobby? Bobby, gli squali ti hanno seguito dall'oceano stai attento Carrie, Bobby non riesce a sentirti guarda bene la strada che stai Carrie Carrie e Bobby sono in pericolo Carrie è caduta dal ponte è atterrata su una linfea e ora è nel mirino degli squali devi riuscire a salvarli fai veloce super truck c朋友 bocca un po' sangre un po' anche uno un po' anche un po' anche un po' anche un po' anche Guarda Carl, Carrie è laggiù Oh no, con l'apertura del ponte gli squali saranno liberi in un minuto Fai veloce Carl Sai già in quale veicolo trasformarti per salvarla Ehi, come vuoi? Ehi, come vuoi? Questo è un'eccellente idea Carrie, guarda chi c'è Non dimenticarti degli squali, meglio fare attenzione Bobby, il super camion ha bisogno che tu rimorchi Carrie a riva Tieni duro, Carrie Oh no, come vuoi? Oh no, come vuoi? Devi sbrigarti, Bobby! Stanno arrivando! Anche tu, Carl, devi agire in fretta! Eccellente idea! Naturalmente puoi usare il tuo ST3000! Veloci, ragazzi! Wow, Super Camion! Sta funzionando! Sta mandando via gli squali! Continua! Wow, Super Camion! Sei riuscito a spaventare gli squali e a mandarli via! Ben fatto! Grazie per il tuo aiuto, Super Camion! Hai ragione, Bobby! È meglio che questo canale diventi un luogo più sicuro! È un'ottima idea, Super Camion! Usiamo una rete! Divertitevi, ragazzi! Ciao, Jerry! Tenti ancora di battere il record di velocità? Ben, non importa se non sei veloce! Ci sono tantissime altre cose che sai fare! Volete gareggiare ancora? Ben, ma che cos'è quello? Hai preso il contenitore di energia dalla piazza della città! Questi contenitori non sono fatti per te, Ben! È pericoloso! Mettilo giù! Non riesci a rallentare! Oh, no! Carl, abbiamo un problema! Ben ha rubato energia extra e adesso non riesce più a fermarsi! È troppo potente per lui! Devi aiutarlo! Super Camion! Pericoloso! Capaccia! Verrò? Ho! 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 Carl, Ben sta andando troppo veloce. In che cosa ti trasformerai per riuscire a prenderlo? Un'automobile da gara, ma è perfetta! Fai attenzione, super camion! Ma come farai a prenderlo? Ben è troppo veloce! Carl, devi raggiungerlo a qualsiasi costo. Sta andando proprio contro il ponte chiuso. Finirà per cadere nel canale. Ben, fai attenzione! Il ponte non è ancora chiuso! Eh sì, Carl, ti serve aiuto! Usa il tuo attrezzo speciale, l'ST3000! Un rampino! È grandioso! È proprio quello che serve! Non temere, Ben! Carl ti sta tirando in modo che tu non attraversi il ponte! Uh, ad ogni modo il ponte è chiuso! Oh, oh! Hai qualcosa? Super camion! Oh, guarda, guarda! Wow! Wow, un ottimo atterraggio! E ora ben sei fuori pericolo! E finalmente il contenitore è tornato al suo posto! Grazie, super camion! Hai salvato la città! Super! Per più avanti, cliccate qui! See you on the road!